Piante da sovescio estive Piante da sovescio estive, quali semi usare per il sovescio estivo e tutti i consigli pratici per fertilizzare il suolo con la tecnica del sovescio. Il sovescio è fortemente consigliato con semina in autunno e sfalcio in primavera, appena prima della fioritura delle piante da sovescio. Il sovescio autunnale è molto comodo perché va a proteggere i terreni a riposo invernale. In più, in autunno, le piante da sovescio non devono competere con troppe erbacce. Il sovescio autunnale è tipicamente usato durante il riposo del terreno o per il sovescio nel vigneto, da seminare al termine della vendemmia. Il sovescio estivo e primaverile è impiegato soprattutto per la preparazione del letto di semina e si svolge in tempi più brevi. Semina del sovescio estivo e primaverile, al contrario, il sovescio estivo e quello primaverile, vedono una più fitta competizione. Per questo motivo, la semina a spaglio dei miscugli per il sovescio dovrà essere eseguita in modo fitto e quanto più uniforme possibile. In generale, le piante da sovescio hanno una buona capacità di competere con le erbe infestanti spontanee e tipiche del periodo estivo, tuttavia una semina più uniforme vi aiuterà a portare avanti la coltivazione delle sole specie botaniche utili per il terreno. Elenco delle piante da sovescio estive Premesso che quasi tutte le piante scelte per il sovescio appartengono a tre famiglie ben conosciute nell'orto, le leguminose, le crucifere e le graminacee, vi mostriamo un piccolo elenco utili delle piante più indicate per il sovescio estivo. Elenco delle piante utili da usare nel sovescio estivo, panico o setaria italica Meglio per lato Pennisetum glaucum sorgo gentile o sorgo sudanese Necessita di due sfalci sorgo ibrido Può richiedere tre, quattro sfalci sorgo Zuccherino fagiolo mungo grano saraceno soia trifoglio persiano Partendo da queste specie botaniche appartenenti alla famiglia delle graminacee e leguminosee Possiamo ottenere ottimi abbinamenti per eseguire il sovescio estivo Tra le piante da sovescio estivo abbinabili, segnaliamo Fagiolo mungo e miglio per lato Trifoglio persiano e miglio per lato Fagiolo rampicante e panico Fagiolo rampicante e sorgo Ibrido soia e grano saraceno Panico e fagiolo mungo Miglio per lato, panico e trifoglio Alessandrino grano saraceno, miglio per lato Soia e sorgo gentile Fagiolo mungo, miglio per lato Panico e soia Fagiolo mungo, grano saraceno Miglio per lato e trifoglio persiano Fagiolo rampicante, grano saraceno Panico e sorgo È possibile ottenere miscugli per il sovescio estivo anche unendo più specie e varietà botaniche Una miscela di sementi da sovescio utile in estate è data da nove differenti specie Sorgo sudanese, o sorgo gentile Miglio per lato, soia, grano saraceno, panico, fagiolo mungo, trifoglio persiano, trifoglio alessandrino e faccelia Le proporzioni da rispettare per ottenere una buona miscela vedono l'impiego di 4 kg di semi di sorgo 6 kg di miglio per lato 9 kg di soia 7 kg di grano saraceno 6 kg di panico 6 kg di fagiolo mungo 3 kg di trifoglio persiano 4 kg di trifoglio alessandrino 4 kg di faccelia Quantità espresse per un ettaro di terreno Ricordate che un ettaro corrisponde a 10.000 metri quadrati di terreno Piante da sovescio primaverili Una miscela di semi di piante da sovescio primaverile potrebbe comprendere il trifoglio alessandrino Il meliloto officinalis La lupinella Trifoglio incarnato Erba medica Trifolio resupinato Grano saraceno Rafano Facela Vicia villosa E minime percentuali di calendula Serradella Coriandola Cornardo Comino Finocchio Aneto e rucola Interrare le piante da sovescio Per avere il massimo beneficio dal sovescio e per incorporare al meglio la massa vegetale nel suolo Il periodo migliore per interrare la massa vegetale si verifica quando le piante da sovescio stanno per fiorire Con piante a sviluppo rapido come quelle estive, ne è un esempio il grano saraceno, dalla semina all'interramento potrebbero passare anche solo 30 giorni La massa vegetale non va interrata in modo profondo, è sufficiente incorporare i residui di sfalcio a una profondità di 10-15 cm Se interrate a profondità più elevate, a causa della scarsa ossigenazione degli strati più profondi del terreno, potrebbero esserci problemi con la decomposizione con una insufficiente e formazione di hummus Interrare il sovescio con la zappatrice rotativa Per interrare la parte vegetale si possono usare attrezzi agricoli come l'erpice a dischi, la vangatrice o la zappatrice rotativa La zappatrice rotativa è uno strumento indispensabile per la cura dell'orto Ottimo per la preparazione del letto di semina, per la lavorazione del terreno, per interrare materia organica e per la tecnica del sovescio Tra i vari prodotti presenti sul mercato vi segnalo la zappatrice rotativa in LG CRT 1440 ad alimentazione elettrica Nella confezione d'acquisto sono presenti se diverse frese, per la tecnica del sovescio dovrete usare quelle a disco mostrate nella foto in alto Questo strumento nei Garden Center è proposto al prezzo di circa 150 euro Si Amazon si compra con 133,89 euro e spese di spedizione gratuite Certo, si tratta di un piccolo investimento ma decisamente utile per facilitare i lavori di pulizia e manutenzione dell'orto Certo, si tratta di un piccolo investimento maggiore di pulizia e manutenzione dell'orto